Ciao ragazze, eccoci qui e oggi abbiamo deciso di fare la nostra prima challenge Abbiamo appunto deciso ogni tanto volare di fare qualche challenge o qualche cosa carina Mi hai costretto a dire le cose come stanno Non è vero Mi hai buttato un coltello, smettila Abbiamo deciso oggi di fare la Chubby Bunny Come funziona? Per chi non lo sapesse, questi sono i Marshmallow Non sono i Marshmallow Io non so nulla E in pratica come funziona? Bisogna mettere i Marshmallow e i Chubby Bunny in bocca E quando ne mettete uno, dite un Chubby Bunny e due Chubby Bunny e vince ovviamente Lasciamo metterne di più E non vanno mangiati Domanda Ti so contare fino a 3? Da buoni Sì, contare l'uomo è mio Ok, grazie E non è vero E non vanno mangiati E non vanno mangiati E non vanno mangiati Io direi iniziamo Allora, ma è un mettero Ma è vero Allora Non vanno mangiati Ma è vero Ma è vero Ma è vero Perché non vanno mangiati Non vanno mangiati Dai, non vanno mangiati No Vanno mangiati E se io Sono un cavaliere io Troppo da rire Sto sicuro di quella volta Uncia di banni Devi farlo sotto te Non è uncia eh Uncia di banni Non so Non so Controllatelo Non so C'ho già il boccavieno io Addirittura Due cia di banni Questo non vuoi Non vuoi Che botta grande Due cia di banni Perché parlo bene Non naso Non naso Non so Non so Non so La bocca vedrai che ci sono tutti Lo stai masticando Lo stai masticando Stai masticando un po' Due cia di banni Due cia di banni Dove è parare bene Tre Tre cia di banni A presto Che di bella Mocca Sì 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 Quattro c'è il biscotti? Sì, stai facendo! Dillo! Quattro c'è il bagno! Quattro c'è il bagno? Quattro c'è il bagno? Che cosa c'è il bagno? Che schifo! Te lo prendi? Sì, io volevo l'acqua io! Ma Teresa, stai a mangiare, dai! Che schifo, stai a sparo e tutto! Mi hai perso! Perché non sei stato reale! Ma te mi stai inguagliando! Ma te mi stai inguagliando! Perché non ti ho fatto! Non è stato reale! La vincisi dice che te lo stavano, se lo stavo io! Ehm! 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 Che schifo! Che schifo! Che schifo! Ehm! Ehm! cosa hai detto? Fatecelo sapere con un commento! E diteci anche magari quale altro challenge! Si ho perso! Non avete preso la challenge! No! Ehm! Fateci sapere quale altro challenge! Magari vi piacerebbe vedere! E noi ci vediamo al prossimo video! Ciao!